cari amiche e cari amici di medicina inauguriamo la nostra programmazione di aprile il primo giovedì di questo mese dopo pasqua ripartiamo con un film biografico dedicato a una delle grandi icone della storia della musica ma anche alla storia della pace alla storia dell'amore a livello anche artistico per i messaggi che ci ha sempre dato bob marley figura spirituale figura mistica figura che parla di solidarietà di amore fra i popoli figura particolarmente importante in questi giorni in questi mesi in questi anni in cui la terra sempre più è vittima delle guerre sta bruciando a tutti gli effetti bob marley one love è un film che parla di questa figura ma che utilizza anche la sua iconicità il suo carisma per parlare di tante altre tematiche su cui dobbiamo sempre avere una grande attenzione ci vediamo il trailer ufficiale di questo film prima di tornare a raccontare qualcosa su bob marley one love da quanto ci lavori da tutta la vita è una hit che regga è la musica del popolo sai che sei una superstar non sono una superstar non puoi separare la musica dal messaggio vedi la musica regga uniscere persone non a tutti piace quello che dici per la tua sicurezza devi fermarti il 3 dicembre 1976 dei potenziali assassini sono entrati in casa di bob marley per uccidere il cantante e sua moglie non vi preoccupate non vi preoccupate non vi piace questa c'è una guerra in atto come porto la pace se non trovo pace per me stesso a volte il messaggero deve diventare il messaggio la leggenda il messaggero il contenuto come fa a portare la pace questa figura appunto di pace che ci insegna ancora tantissimo al giorno d'oggi un film su bob marley che diventa appunto qualcosa di molto più ampio questo unico amore questo one love di una delle sue più celebri canzoni per farci davvero riflettere un po' anche sul presente e sull'idea della pace vi ringrazio molto per l'attenzione vi aspettiamo in sala per bob marley one love a presto